Incidente stradale, tir, sbanda e finisce di traverso sulla strada per Ispica, ferito l'autista. Un tir è uscito di strada questa notte sul tratto di strada tra Pacchino e Ispica, provocando un incidente stradale autonomo e il ferimento dello stesso conducente dell'auto articolato. Il mezzo pesante, secondo quanto si apprende, sarebbe finito fuori strada per causa ancora da accertare e ha concluso la soccorsa mettendosi di traverso sulla strada. L'uomo avrebbe contratto delle contusioni non gravi ed è stato soccorso dal 118. Non si esclude che il camionista possa avere perso il controllo del mezzo a causa di un malore o distrazione. Pesanti disagi al traffico, bloccato con diversi veicoli in coda, impossibilità di appassare. Il Titer infatti ha tagliato in obbligo la strada e ha concluso la soccorsa dalla destra alla sinistra della carreggiata, bloccando entrambi i sensi di marcia.